Buongiorno a tutti, bentornati nel mio canale. Oggi vorrei fare un video un po' particolare perché è la storia del panettone genovese di casa mia, cioè il panettone genovese che noi facciamo in casa perché noi abbiamo una tradizione, tutti gli anni facciamo il panettone a mano, proprio il classico pan dolce genovese e io tanti anni fa avevo chiesto a mia mamma da dove arriva questa tradizione della mia famiglia perché nella mia famiglia legata a questa tradizione c'è proprio tutta una preparazione particolare, quindi fare i panettoni a casa mia è una cosa importante, quasi una festa, quindi comunque io mi ero interessata, mi ero incuriosita, avevo chiesto a mia mamma da dove arriva questa tradizione e lei me l'aveva raccontato, poi aveva avuto l'idea di scrivere proprio un raccontino da regalare ai nostri parenti in cui spiegava proprio quelli che erano i suoi ricordi di infanzia, spiegava tutta la storia del panettone e siccome l'ha scritto veramente molto bene, a me è piaciuto questo racconto e mi è venuta l'idea di fare appunto un video su questo. Io adesso sarò la voce narrante, però il racconto è stato scritto da mia mamma, quindi io lo leggerò come se fosse lei a leggerlo. Quindi cominciamo e vi racconto la storia del panettone genovese di casa mia. Questo raccontino è dedicato a mia figlia Sara, che grazie alle sue curiosità su questa tradizione mi ha fatto rivivere i momenti belli della mia vita. La storia del panettone genovese, ma attenzione, quello di casa mia. Eh sì, si può dire proprio così, infatti la storia di questo panettone risale alla fine dell'ottocento, cioè da quando se ne ha memoria. La tradizione arriva ai giorni nostri grazie alla mia famiglia, che ne tramanda la ricetta da generazioni. La nonna Elena raccontava che già sua madre ogni anno per le feste preparava il panettone e anche la nonna Sunta, sua suocera, faceva lo stesso. La cosa più importante era procurarsi dal fornaio di fiducia, Bacicin, il crescente, cioè il lievito madre. Poi per due giorni si procedeva all'impasto con le dovute lievitazioni. La cosa curiosa è che veniva tenuto al caldo, sapete dove? Nel letto. Eh già, chi lo avrebbe mai immaginato, eh? Le case non avevano riscaldamento, c'era solo la stufa in cucina che veniva alimentata soltanto durante il giorno, quindi il luogo più caldo era ritenuto letto. Una volta pronto per la cottura veniva posto su di una tavola di legno, avvolto in una coperta di lana e quindi le donne, con il loro pesante fardello, si recavano al forno. Rimanevano nella bottega di Bacicin, il fornaio, per diverse ore, a volte anche a notte inoltrata, perché la cottura doveva essere lenta e le persone in attesa erano tante. Chissà in quelle lunghe attese cosa si raccontava. Certo, avranno avuto da spettegolare, anche perché nel quartiere si conoscevano tutti. Mia, a Shamarinin, alla fetum pandusse, che pana fugassa, chissà cosa l'ha in patesta. Spesso Bacicin brontolava, perché alcune massaie non rispettavano le dosi e mettevano troppo zucchero nell'impasto. Lui doveva cuocerlo il tempo necessario, altrimenti all'interno sarebbe rimasto crudo. Però in questo caso il panettone risultava troppo scuro in superficie e per un professionista questo era motivo di disappunto, quasi fosse colpa sua se il panettone sembrava bruciacchiato. Certamente molte donne questo lo pensavano, figurarsi se loro avevano sbagliato la dose. Era certo il fornaio che aveva sbagliato la cottura. Povero Bacicin, come spiegarlo a certe comari che lui non aveva colpa? Ogni donna quasi sempre aveva più panettoni da cuocere. Per il trasporto all'andata si usava una tavola di legno, dove come soldatini si allineavano i panettoni, ma il ritorno era più agevole, infatti a questo punto i panettoni si potevano mettere uno sull'altro. Le donne più sofisticate usavano la classica borsa da spesa, quella con i rombi in pelle, le altre invece usavano un mandillu da fagottu, annodavano i quattro angoli di questo fazzolettone e via. Spesso in quei giorni nevicava, le donne uscivano dal forno con i loro fagotti, lasciavano orme sulla neve e come in un presepe si avviavano lentamente verso casa. Nel corso degli anni il panettone nella mia famiglia è stato preparato da tutti i suoi membri. Io ricordo la mia infanzia nei giorni che precedevano il Natale, l'atmosfera era elettrizzante, in casa c'era gran fermento, i preparativi cominciavano dopo l'immacolata. Per l'occasione arrivavano da Pegli, rigorosamente a piedi fino a Sestri, i nonni Roberta e Luigi. Lui ogni anno arricchiva il nostro presepe con una nuova casetta che costruiva con materiale di recupero, raccolto a menna dopo l'amareggiata. La mamma le ricompensava con un pranzo che sembrava l'anticipo di Natale. Se chiudo gli occhi, anche se sono passati 64 anni, rivedo la cucina con le arance e i mandarini che guarniscono la grande cappa, i rami di alloro appesi e la stufa accesa con bucce d'arancia posate sopra la piastra per aromatizzare la stanza. Mi sembra quasi di sentirne il profumo. E poi la conta degli ingredienti per controllare che nulla mancasse per il grande giorno, ossia quello della preparazione del panettone. Ricordo il grande tavolo con la spianatoia di legno posata sopra. Io che arrivo appena a guardare la superficie, vedo una montagna di farina come un vulcano dove all'interno viene posto il panetto lievitato e quindi versato burro fuso e a seguire tutti gli altri ingredienti. Zucchero, cedro, uvetta, pinoli, scorza di limone e semi di finocchio. Poi mani che cercano con fatica di raggruppare tutti questi ingredienti in un unico impasto. L'uvetta e i pinoli che scappano via dalla farina e io pronta a raccoglierli e chiaramente a mangiare tutto ciò che sfugge. Ma quelle mani sono esperte e veloci e in men che non si dica l'impasto è pronto. Ora il grande impasto viene diviso in diverse parti per formare più panettoni che vengono lavorati uno ad uno e poi con tovaglioli di lino ripiegati come strisce, vengono avvolti come bambini e messi al caldo sotto una copertina. Ricordo il profumo, il profumo di Natale. La cottura, tutto ruotava attorno a questo avvenimento. L'attesa, chissà sarà cotto ora? Ma forse è meglio aspettare ancora un po'. Ma se lo lascio ancora va a finire che prende la fiammata e si annerisce sopra. Guarda, secondo te gli è evitato bene? Ma questo non mi sembra cotto bene, secondo me è crudo dentro. Molto bene, penso io, per me è più buono. Una volta cotto, meraviglia delle meraviglie. Dove riporlo? Ma nel cassetto in fondo al comò. Quello era il cassetto dove i panettoni aspettavano di essere consumati. In loro compagnia vi erano canestrelli, anche quelli fatti in casa, torroni, cioccolatini, frutta secca e gli immancabili confettini di Natale. Quelli che Gesù bambino la notte di Natale metteva sotto il cuscino di ogni bambino. Che ricordi belli, che dono grande c'è in questa tradizione. Questa è la vera ricchezza che fa felice chi ha vissuto l'atmosfera dei giorni della preparazione del panettone. Questa non è semplicemente la ricetta di un dolce natalizio, ma è qualcosa di più. È il regalo di Natale che ogni anno ricevo dai miei antenati. Spero che altre famiglie facciano tesoro di questa ricetta e come me possano essere felici quando ricorderanno la loro preparazione del panettone. Buon Natale a tutti da Loredana. Questa è la ricetta del panettone genovese di casa mia. Un chilo di farina, 250 g di burro, 250 g di zucchero, 500 g di uvetta, 100 g di pinoli, 100 g di cedro candito, la scorza grattugiata di due limoni, 30 g di lievito di birra, semi di fenocchio quanto basta. Ancora buon Natale a tutti! Questa era la storia del panettone genovese di casa mia. Vi ho dato anche la ricetta. Spero in qualche modo insomma di avervi tenuto compagnia con la mia tradizione di famiglia. Vi mando un bacio e vi do appuntamento alla prossima. Ciao a tutti!